il donna don Antonio buongiorno ma certo ciao 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 anche se vi ripeto una frase che mi piace molto soprattutto la mia è non dobbiamo perdere nessuna occasione per imparare a vivere sai uno che dice sta frase da otto anni c'è una bella eh c'è un bel coraggio quello dici eh certo sì ma noi ne auguriamo duecenti donna di anni altro che è otto adotto non dobbiamo perdere nessuna occasione per imparare a vivere ciao 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 ciao